Ciao a tutti, in questo video vorrei illustrarvi molto brevemente il funzionamento di un meccanismo di deck building che stiamo sviluppando e testando, in questo modo potete provarlo e darci i vostri feedback. Allora, per prima cosa i due giocatori devono accordarsi utilizzando il metodo che preferiscono nella scelta di due razze da utilizzare in quella partita. Possono accordarsi oppure ogni giocatore può scegliere una razza. Ammettiamo in questo caso che si voglia utilizzare i maral e gli skrill. Quindi per prima cosa si selezionano i due mazzi e si uniscono in un mazzo unico. Dopodiché il mazzo viene mescolato. Questo è il mazzo che verrà utilizzato per la formazione di entrambi i due mazzi dei giocatori. I due giocatori allora si accordano per un ordine di partenza. Ammettiamo che inizia io e poi si deve versare immaginario. La prima cosa che facciamo è allora che ogni giocatore pesca tre carte. E mostra. Entrambi i giocatori hanno visibilità delle tre carte pescate. Di queste tre carte due entreranno a far parte del mio mazzo e del mazzo del giocatore e avversario mentre una verrà scartata e per quella partita non sarà più disponibile. Come avviene questa scelta? Allora il primo giocatore che appunto in questo caso sono io può fare una delle due azioni. O può scegliere le due carte tra le sue tre che ha pescato da includere nel proprio mazzo oppure sostanzialmente può fare la scelta per l'avversario. Può scegliere quale delle tre carte far scartare all'avversario e quindi di conseguenza quale altre due finiranno nel suo mazzo. Ammettiamo per esempio in questo caso che io non voglia far avere il mio avversario questa carta che è lo screen hunter. E allora decido di fare questa scelta. Scarto questa carta, la possiamo mettere qua ad esempio. Automaticamente queste due finiscono nel mazzo dell'avversario. Vengono nascoste e unite e non si potranno più vedere fino all'inizio della partita. Quindi sta a me ora ricordarmi quali sono le carte che sono entrate nel mazzo dell'avversario e anche per l'avversario avviene questa cosa. Dopodiché tocca all'avversario che quindi dovrà fare la stessa cosa che ho fatto io. Quindi scegliere quale tra le mie tre carte scartare. In questo caso potrebbe essere il guardiano Maral. Viene scartata e queste due carte finiscono nel mio mazzo. Finita questa operazione si può ripetere ovviamente invertendo l'ordine. Quindi prima il mio avversario pescherà tre carte e le renderà visibili. Dopodiché le pescherò io. A questo punto invece è il mio avversario che può iniziare e fare la sua scelta. Può guardare le carte che ho pescato io, le carte che ha pescato lui, immaginare quali siano più idonei per la sua strategia e per la mia e capire se gli conviene fare una mossa per evitare che io abbia una carta particolarmente interessante oppure se assicurarsi le due che preferisce. In questo caso ammettiamo che preferisca assicurarsi queste due per evitare di avere il doppione con lo screen che potrebbe essere una cosa non adatta al suo mazzo. Quindi si sceglie queste due e automaticamente questa va scartata. Quindi ora tocca a me che ovviamente dovrò fare la stessa cosa. Guardare le mie tre carte e scegliere quale includere. Queste carte sono definitivamente fuori dalla partita. Queste sono quelle che stanno comprenendo il mio mazzo e questo è il suo. Ogni turno, ogni giro completo, due carte entreranno nel mazzo e quindi in relativamente pochi turni si può arrivare alla costruzione di un mazzo completo sempre nuovo e diverso partita per partita e quindi si può arrivare alla costruzione di un mazzo completo di un mazzo completo di un mazzo completo di un mazzo completo.